Tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, quest'oggi siamo tornati in un nuovissimo gioco Supercell Nuovo un po' per dire però è un gioco della Supercell in collaborazione con Supercell che oggi andremo a vedere Si chiama Love and Peace, è un gioco molto molto semplice che io già conoscevo infatti ci ho fatto un video mi sembra qualche annetto fa Potete andarlo a vedere qua sopra, è un video molto vecchio e fatto male ma comunque già avevo portato i tempi questo gioco Sapendo che stava iniziando una collaborazione con Supercell Ma quest'oggi vi mostro un attimino questo nuovo gioco, vi parlo di queste collaborazioni che sta facendo Supercell E lo andiamo soprattutto a provare e vi vado a mostrare un gameplay da pro player perché c'è da dire io sono molto molto avanti rispetto a molte persone Ok iniziamo direttamente dal Twitter ufficiale di Day, come vedete già l'immagine profilo cambia e vediamo sia il logo del nuovo gioco e sia il logo di Day Eppure nell'immagine profilo vediamo sia i personaggi di Day sia i personaggi di Love and Peace Qua sotto infatti ragazzi vediamo un attimino di cose sicuramente molto interessanti tra cui il trailer ufficiale della collaborazione in arrivo Possiamo leggere il tweet Amici che cucinano insieme e giocano insieme, abbiamo fatto nuove amicizie come noi adorano la torta, vi presentiamo il nostro vicino Love and Peace È un gioco di unione di torte, scarica ora e giocaci, qua adesso c'è tutto il link per scaricarlo ma noi adesso andiamo a vedere subitissimo il trailer Infatti eccolo qua vediamo i personaggi di Day, i personaggi del nuovo gioco Love and Peace che giocano tranquillamente il telefono al nuovo gioco È un gioco molto stile, un po' candy crash se si può dire lo stereotipo, non è per tutti, è un gioco molto tranquillo dove bisogna abbinare le torte, tutte le varie cose Ma adesso vediamo subitissimo dopo il gameplay, ecco qua entrano tutti quanti nell'autobus di Day dove c'è il polletto e qua vediamo pur un tutorial di come si gioca diciamo in modo molto semplice Vedete che qua sfornano torte, sfornano di tutto quanto e nutrono così i personaggini di Day, è molto carina come cosa, le animazioni di Supercell sono sempre la cosa più bella che esista E questo video conclude giustamente con un pizzico d'amore essendo che il gioco si chiama Love and Peace Andiamo anche nell'account ufficiale Twitter di questo gioco, vediamo che è un gioco fatto dalla Trial Mix, che cos'è la Trial Mix? Ragazzi la Trial Mix è una nuovissima azienda in collaborazione con Supercell dove già ve ne ho parlato in molti e molti video, il video dove ve ne parlo in modo migliore della Trial Mix E delle collaborazioni che sta facendo Supercell è qua sopra, ma comunque il gioco è un gioco davvero ben fatto Tralasciando la grafica stupenda che adesso noi andiamo subitissimo a provare E ragazzi io infatti vi consiglio di provarlo anche se magari non vi piace proprio il gioco, provatelo se siete dei veri fan di Supercell Se davvero volete sperimentare e aiutare Supercell in queste collaborazioni io vi consiglio di andarlo a provare Eccolo qua, Merge Game E vediamo pure che ci sono vari video dove ci mostrano come un attimo funziona il gioco Ha una storia, tu in pratica ragazzi dovete giocare in questo stile, abbinare tutto quanto, ottenere oro, ottenere le varie cose E venderle nel frattempo alle persone, in pratica avete un bar E come vedete potete nel frattempo arredare ragazzi la casa da un mondo proprio brutto a un mondo bellissimo Tutto sbluccicante che potete scegliere voi Infatti adesso noi andiamo subito ad aprirle e vi mostro il mio account da tre giardone Ovviamente il gioco non inizia così, c'è tutto il tutorial Ma io già sono molto molto avanti giusto per farvi vedere un attimino come si gioca Si inizia ad arredare tutta la parte di fuori, poi si va verso gli interni Certo non è un gioco dedicato a tutti però nel frattempo avete un'intera casa da ristrutturare A causa in pratica di una scomparsa E qua c'è tutta la storyline Noi iniziamo subito a giocare, in pratica è un mondo, un continuo In pratica è un gioco infinito dove tutto quello che fai rimarrà per sempre In pratica questa tavola che stai vedendo qua accanto rimarrà per sempre Io ho appena venduto a una persona tutti i miei averi in pratica Come vedete qua accanto, qua sopra abbiamo tutte le ordinazioni E qua in basso dove ho depositato tutto quanto io Abbiamo i vari diciamo spawner dei vari oggetti Dove possiamo mettere tutto quanto Qua abbiamo pure del miele che spawna giornalmente Che noi uniamo subitissimo È un gioco molto divertente, pure molto tranquillo E ci sono pure le missioni Di recente come vedete qua a sinistra hanno aggiunto il pass Abbiamo pure le missioni Ragazzi quindi è un gioco ben fatto La grafica diciamo che è davvero davvero bella E il pass è tutto un pass, un classico pass Lo possiamo attivare giustamente con 5,99€ Ma ora vi mostro un attimino come si gioca Allora possiamo unire tutto quanto Noi facciamo per esempio adesso questa tortina Come si fa la tortina? Andiamo a schiacciare subito ragazzi nella busta della spesa Questa busta della spesa ci dà della farina Tanta farina ragazzi Che noi andiamo subito a sommare facendo dei biscottini E così noi continuiamo a farmare tanto ma tanto cibo Continuando così in pratica all'infinito Ci serve per fare un sacco di nuovi cibi Per poi completare un sacco di missioni Come vedete qua ci sono pure altre robe Aggiungo tutto quanto Facciamo questa tortina Ma nel frattempo se voglio posso fare pure tranquillamente Questa tazza qua alla fine Che è davvero molto semplice E iniziamo subito facendo questa Infatti sommo due bicchierini E abbiamo già una bella tazza Che ci dà un dollaro Non ci serve totalmente a niente E qua è arrivato di nuovo un altro acquirente Gli regaliamo il libro Nel frattempo ci hanno dato pure delle gemme E qua sopra se non ve ne siete accorti C'è il pass Dove possiamo ottenere un sacco di cose Shoppare, spendere i nostri soldi Non è la mia intenzione per adesso Però magari in futuro Nel frattempo vi ricordo di seguirmi sugli style Anche lì se avete qualche domanda sul gioco E qua ci dicono pure qualche consiglio Su come andare a sommare tutto quanto Noi facciamo tante tortine Vedete qua abbiamo creato un'altra tortina E quando vedete ad esempio la stellina Accanto al cibo Accanto all'oggetto Vuol dire che è arrivato al suo massimo Di potenziamento Allora ragazzi Noi continuiamo a fare questi biscottini E come vedete Tutte queste cose che hanno le bolle Sono delle cose che quando Arrivate ad un certo punto Fate tanti ma tanti abbinamenti Vi si creano E con queste bolle potete andarle ad acquistare Ad esempio O vedendo un video O magari spendendo una gemma Non lo farò io in questo caso Anche se certe volte può essere molto utile Comunque ugualmente Quando scoppiano Vi dando tanti soldini Ora io ragazzi Voglio cercare di fare un po' di soldini Giustamente Per andare avanti nella storia Perché questo qua È un gioco con la storia Che vi permette Di fare un sacco di avventure Di sbloccare nuovi luoghi Di conoscere nuove persone È davvero molto interattivo Ed è sicuramente molto divertente Ovviamente ragazzi Non è dedicato a tutte le tacee È sicuramente rivolto magari a un pubblico più adulto Un po' nello stesso stile di dei Però comunque ragazzi È un gioco che Se amate i giochi Supercell A prescindere Secondo me vi piacerà Al momento Ha solamente una collaborazione Non esiste nemmeno il Supercell Di connesso Però è un gioco che in futuro Avrà sicuramente tante ma tante robe Come sapete Supercell in questo periodo Sta facendo un sacco di collaborazioni Vuole espandere la sua azienda Anche perché Al momento diciamo Che non è in un momento davvero buono Supercell Perché come sapete Non esistono nuovi giochi Supercell Da un bel po' di anni Stiamo aspettando Clash Mini Che uscirà quasi sicuramente Ma ancora non ne siamo manco sicuri Quindi siamo un attimo In un momento In un periodo di stallo Per Supercell E per tutti Il mobile gaming Nel frattempo Noi continuiamo ad abbinare tutto quanto Prendiamo il nostro oro Prendiamo altro oro E come vedete Qua in basso a sinistra ragazzi C'è un frigo mistico Che cos'è È tipo un deposito E qua dentro Io ci ho messo un gatto Lo so Forse è legare E mettere i gatti nel frigo Ma io ce l'ho messo lo stesso È una delle missioni più complesse del gioco E bisogna arrivare ad ottenere Il gatto scomparso Quindi ragazzi I gatti sono molto molto rari Infatti così Noi riusciamo a creare i gattini Che sono davvero un sacco carini Criamo le ciotoline E poi nascono i gattini Guardate che bellino Quel gattino Poi solitamente Bisogna cercare un attimino Ragazzi Di essere ordinati Perché se iniziate ad essere disordinati Alla fine non capite più niente Un po' come faccio io solitamente Quindi metto tutte le cose da un lato Mi gestisco al meglio Le mie posizioni Infatti come vedete Nella parte sotto Avete tutti gli abbinamenti disponibili Eppure tutte le caselle Che vedete Ad esempio che hanno il cemento ancora sopra E sono tutte sporche Vuol dire che ancora dobbiamo arrivare A sbloccare quell'oggetto E appena lo andiamo a sommare insieme Ragazzi Possiamo ottenerlo Come vedete Al momento io ho solamente Uno di energia L'energia a cosa serve? L'energia serve per giocare Ma se non la vede Come si fa? Bisogna aspettare Costa due minuti Oppure ragazzi Andate a comprare nel negozio Che costa abbastanza poco Qua abbiamo pure una cosa gratis Da ottenere E abbiamo pure questo oggettino qua Che ci può dare Tutta questa energia Perché almeno vorrei completare Il tinamisù Livello 8 E quindi cerchiamo ragazzi Di arrivare a completarlo Questo tinamisù E ditemi nei commenti Se a voi piace questo gioco Se vi ispira Se avrete intenzione Di provarlo in futuro Io vi consiglio Di dargli davvero una possibilità Perché il gioco Ha del potenziale Molto molto carino Ma soprattutto È molto rilassante Quindi vi potrebbe piacere Ora ragazzi Per continuare Essendo che ho finito Tutta l'energia Noi ci andiamo a prendere Questi 100 di energia Con 10 gemmoz Che comunque È un ottimo equivalente Abbiamo fatto un'altra Tortona là sopra Tanto ne abbiamo completato Il tinamisù Lo andiamo subito A riscattare più tanto oro Ragazzi 102 di oro Molto molto bene E abbiamo pur fatto Delle missioni del pass Ora vi mostro Come funziona però La parte della storia Intanto qua abbiamo completato Alcuni livelli del pass Come possiamo vedere Abbiamo ottenuto Un'insalatina Per restare leggeri E una box misteriosa E abbiamo pure una box misteriosa Che andiamo ad aprire Tanto per Possiamo scegliere Io vado a scegliere Un bellissimo dog Che gli hot dog Sono molto molto rari Ma andiamo subito ragazzi A fare la parte della storia Come vedete qua Abbiamo la nostra carissima Protagonista Che ci chiede 75 di oro Per completare E attivare Il nuovissimo forno Vediamo che qua Adesso arrivano Tutti gli amici Della gang Vediamo che adesso Amelia Che è la protagonista Inizia a salutare Tutto l'universo Noi schifiamo tutto Perché mi sa E con sacco leggere Ma facciamo continua Comunque non volevo Spoilerarvi la storia Adesso arriviamo A una delle parti più belle Dove possiamo scegliere Come arredare Il nostro appartamento La nostra casa Possiamo mettere Un forno abnorme Forno molto carino Oppure un forno Bello Con i massi Come piace a me E io probabilmente Ragazzi andrò a scegliere O questo Che è moderno Però non ci sta molto bene O questo qui Infatti vado a scegliere Questo qua Che è molto Elegante E vediamo che adesso Ragazzi Le giornate continuano E diventano sempre più lunghe Per completare una giornata Comunque Io direi che per questo video è tutto Io spero che questo video Su Love e Peace Vi sia piaciuto Comunque ancora non ho capito Come si pronuncia Guardate Sono appena apparsi accanto Che sono uno più bello dell'altro Io vi ricordo di fare l'abbonamento Per ricevere un sacco commentaggi Da parte mia Ma soprattutto per supportarmi Farmi continuare a portare Contenuti davvero fantastici Nel mondo Supercell E noi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao ciao